Ciao Io prendo una chiesta E tu cosa prendi? No io neanche Eh vabbè ma si soffrerà solita Sì devo contendere Vabbè non hai prendito Peccato che non te la posso soffrire Se no ti avrei veramente costretta Non davanti Sì proprio Sì proprio Sì 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 E io mi adora che ciò allora in italiano Ok ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è a chi potermi rivolgere, i miei genitori, però non so se potrebbero... No, non ti preoccupare, ho veramente paura. Visto che questa storia ci sta attormentando, magari ti puoi rivolgere a mio padre, lui finanziare saprà comunque aiutarti. Come vuoi, se ti fa piacere puoi parlare di qualcosa di tutto, di l'amato. Va bene, sei un'amica. Oh guarda Sara, c'è mio padre, chi va di parlarne ora? Io sinceramente mi mi raccoglio, non sai come sono fatta. Io non ti preoccupare, chi va. Ciao papà. Ciao. Grazie. Ciao. Io ho la mia amica. Che mancare? C'è un nostro compagno di quarta che da un po' di tempo praticamente mi sta perseguitando e non so come poter fare e quindi parlandone con loro mi hanno consigliato di rivolgermi a lì. Fatto bene a rivolgerti a me, ci andiamo a parlare e vediamo se possiamo esserti di aiuto. Ok, grazie. Ti dobbiamo dire una cosa. Te la dovevo dire anche io da un paio di giorni, ti devo ritare il tuo anello. Ah. Cosario, Oliva, Massimiliano Schiavone, Sara Rondi, Mattia Zetara, Patrizia Smedicato, Gianella, Anna Caserta, Iliana Ghielur, Tania, Pazio, Ilaria Fraccaldieri, Carmela Di Palma, Taranto Cinzia, Elena Machera Sottokinico. Grazie.